Ragazzi, ho acquistato il mio primo drone da TomTop, che è stato messo per consigliato da un mio amico, il mio caro amico, Salvatore, per quando scrivete i vostri dati, di inserire dove ce la via anche il numero ciclico, altrimenti avrete dei problemi che ne hanno consente. Ok, andiamo ad aprire questo fantastico pop, ecco qua, bene, manuale di istruzioni, adesivi, drone, con dei motori brushless, la telecamera orientabile, abbiamo la batteria, carica batterie, delle eliche di ricambio, un supportino per telefono, e dall'altra parte facciamo tutte le comande riflessate. Ecco tutte le comande. Quindi questa telecamera può essere gestita direttamente con il telecomando. Ora, dobbiamo poi cercare il batteria del telecomando, quindi faccio un ottimo di pausa, ma dopo. Bene, abbiamo inserito le batterie. Ciao Ale. Cosa ti è arrivato? Il drone. Vero? Sì. E che farei con quel drone? Cazzo ne so, lo farei tu. Vabbè, cosa faremo insieme con quello? Allora, questo drone, figo, ha la telecamerina incorporata. Con questo qua andremo ad integrare i nostri video dall'alto. Wow. Fantastico. Stavo guardando, appunto, nelle istruzioni che, queste, il drone ha il GPS incorporato. Sì, sì. Ha il GPS incorporato, oltretutto c'è una funzione che ti segue, quindi lui vola, quindi ti segue. Fantastico. Poi nel momento in cui capitasse che ti vola via, come è successo a Davide, che poi è caduto nell'acqua, c'è questo buesantino carinissimo, che cliccando lo ritorna indietro e ti torna addosso. No, addosso. Le prossimità più prossime. Esatto, nelle prossimità. Poi vabbè, si possono fare i filmatini, c'è la possibilità di scaricare un'app, che troviamo nella pagina 19, fotografando o dall'Android, o da iPhone, o da... Si fotografa e ti scarica praticamente l'applicazione che ti consente di usare il cellulare. Installando questa cosina simpatica nel telecomando, che poi diventa un volante, metti qua il telefonino. Esatto. E tu vedi praticamente quello che stai riprendendo, registrando, papapapa, papapapa. Fantastico, perché cosa c'è di nuovo? Telecamere orientabile. Si, che si può rientrare da qua e ti fa vedere, tu praticamente dal cellulare, vedi praticamente quello che stai riprendendo. Esatto. Lì, lo vi abbiamo fatto anche una registrazione per vedere l'installazione su Android. Ah si? Vero. Beh, questo proprio io me lo faccio vedere. Comunque, le batterie... Cosa è la parola? Le batterie arrivano scariche. Esatto, è della buona. Quindi bisogna caricarle. Ecco qua servono quattro batterie stilo. Mi raccomando, cariche. Sì, non le abbiamo diverse perché le abbiamo tolte dei telecomando. E poi che dire, adesso stiamo aspettando che si carichi per provarlo. Eh, poi andiamo a frungire. Sì, forse. Se non piove. No, non piove. Sì, non piove. Sì. Sì, non piove. Sì.